Vittime della crisi economica anche e soprattutto i lavoratori. Le ripercussioni sul mercato del lavoro iniziano a manifestarsi maggiormente a partire dal secondo semestre del 2008 e non sono ancora finite. Secondo un'indagine condotta da Ires Puglia, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali e presentata nella sede della CGL, esiste il rischio concreto che una parte della disoccupazione attuale diventi strutturale. In base ai dati Istat rielaborati dai ricercatori, il tasso di disoccupazione in Puglia nel terzo trimestre del 2009 non è dell'11% ma del 27%, questo perché i ricercatori hanno tenuto conto anche degli scoraggiati. A soffrire, secondo Ires, sono i lavoratori meno tutelati. Il dato più rilevante è quello delle condizioni di lavoro che sono in forte sofferenza, quindi c'è il dato devastante della crisi, il dato della cassa integrazione, il dato della precarietà del lavoro e poi il dato della disoccupazione. Le politiche del governo per il mezzogiorno sono state devastanti e quindi invertire questa tendenza è mettere in campo politiche e investimenti di risorse pubbliche per tentare di fronteggiare questa emergenza.